Cinquantanovesima edizione del Salone Nautico di Genova, vi presentiamo una delle interessanti novità dei cartieri Green Line Yacht. Vi presentiamo il 45 Fly, un'imbarcazione che può essere totalmente ibrida, full electric o a motore normale. Green Line è un brand che nasce dieci anni fa e ha sempre puntato su un concetto di barca diversa. Noi come M3 Servizi Nautici abbiamo deciso di importare questo brand da quest'anno, proprio perché offre qualcosa di nuovo ai clienti, qualcosa che non c'è sul mercato, tra cui il concetto della motorizzazione. Quindi imbarcazione che è l'unico brand al mondo che permette di avere questa triplice scelta e quindi un mondo di comfort nuovo, andare con una produzione ibrida, quindi elettrica, ti permette di andare in zone dove prima non potevi andare con un motore termico per restrizioni ambientali o quant'altro. Questo è un 45 piedi Fly Bridge, presentato a Cannes qualche giorno fa, quindi è la Miraglia, la flagship di Green Line, una versione progettata all'interno da Marco Casali, quindi un'importante matita italiana. Nasce con una versione due cabine, qua vediamo la versione tre cabine, centrata principalmente sul comfort. Quindi abbiamo i pannelli fotovoltaici, che è uno dei plus di Green Line, permettono di avere tutte le utenze sempre attive a 220 volt, come in casa. Quindi abbiamo per esempio un frigorifero molto similare a quello che uno trova in casa ed è questo una cosa molto rara, perché è un frigorifero che va a 220 volt, quindi non ha bisogno di generatore o essere attaccato in banchina. E così come tutte le prese di corrente di serie si trova ad avere il 220 volt. Il ponte superiore è molto grande, è uno dei più grandi della categoria e gli spazi anche, da quello che ho capito dai vari giornalisti, sono di pregio come dimensioni. Parliamo di plus, in che cosa eccelle? Allora, questa fa parte della concezione di Green Line, quindi il comfort prima di tutto, tant'è che abbiamo un'uscita laterale vicino alla posizione di guida, frigoriferi a grandezza naturale, quindi quello che abbiamo in casa, e poi abbiamo un'attenzione, ripeto, al comfort e al dettaglio. Quindi Marco Casaglia ha fatto veramente un grande progetto nella cura dei dettagli, nella pelle, nel rivestimento, e questi sono gli aspetti principali. Coccoliamo i clienti anche a terra, guardate cosa dispone anche il cantiere. Sì, per noi è importante, lo ripetiamo, il comfort, e quindi comfort vuol dire a bordo ma anche appena arrivi in banchina, quindi la collaborazione con il produttore di Monopattini è stata qualcosa che il cliente ha apprezzato e su cui noi stiamo lavorando. Grazie a tutti.